Ciao a tutti! Ciao! Oggi siamo tornati a Rifugio Genova, qui tra Liguria e Piemonte, a fare un'altra arrampicata. Sì, esatto. Vediamo la location in cui siamo, una location che potreste trovato molto interessante. Sì, esatto. La location, vabbè, siamo praticamente subito dopo la provincia di Cuneo, per l'esattezza nel paesino che si chiama, scusate, la pronuncia Intacque, d'accordo del genere. Intacque? Sì, vabbè, si scrive Intacque, ma si pronuncia in un altro modo, essendo francese si pronuncia in un altro modo, penso Intacque, credo. E niente, siamo arrivati qui dopo un percorso a piedi di trekking di circa due orette e siamo arrivati a Rifugio Genova, dove abbiamo pernottato, cena e colazione. Sì, diciamo che abbiamo ripristinato le forze dopo la passeggiata. Ci siamo anche beccati in acquastone, ma non importa, tanto l'estate fa caldo. E niente, adesso poi appunto il mattinato siamo saliti fino a qui alla parete per arrampicare. Ok, facciamo una panoramica del punto in cui siamo. Qui davanti abbiamo il Rifugio Genova. Il Rifugio Genova è tra due laghi, una a sinistra e l'altra a destra. Facciamo la panoramica. Che siamo qui lì dietro c'è l'argentero. Questa è la parete di arrampicata. Ecco, panoramica fatta. Poi la parete di arrampicata e le nostre spalle sono queste. Qua abbiamo sette vie che vanno dal livello quattro sulla destra, quattro, cinque e sei. Sono due da quattro, due da cinque, no due da quattro, quattro da cinque e una da sei. Ora nel video faremo vedere questa via qua, quella che ci hanno detto che è il livello 6A. Bella. Allora mandiamo avanti il video, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.